Un giorno di commemorazione verso i martiri delle foibe, verso gli italiani, colpevoli solo di essere italiani che persero la vita in questo dramma dell'esuto, dalle terre giuliane, dalle terre istriane e della città di fiume. Ora, dopo moltissimi anni, la provincia è qui a Padova per commemorare questo tragico momento della storia della nostra nazione e per dimostrare, dopo più di 70 anni, ancora vicinanza ai familiari di queste vittime che, come ho detto prima, hanno perso la vita con la sola colpa di essere italiani. Oggi è importante rinnovare i valori che ci portano alla memoria delle vittime delle foibe, una storia che è anche stata, come dire, non controversa, vittima anche un po' di strumentalizzazione. È importante invece trovare, come dire, un'unità di fronte alle tragedie della Seconda Guerra Mondiale che hanno colpito il nostro paese e ricordarle anche oggi dove viviamo una guerra e quindi dove le atrocità che abbiamo vissuto noi in quel passato non tanto lontano ancora oggi si ripetono. Questa ricorrenza civile ci dà l'iportunità per riflettere insieme su alcune delle pagine più dolorose della nostra storia. Pagine di storia per troppo tempo nascoste o almeno tacciute. Ma le storie degli esoli tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e i primi anni dell'Italia Repubblicana non possono essere cancellate. La storia è infatti il racconto di quello che è stato e come tale va ricostruita, documentata, studiata e narrata. Quindi la legge sul giorno del ricordo non solo commemora le vittime della violenza, ma colma quel divario che si era creato tra la fonte e memoria espressa dal mondo degli esoli e quella molto meno determinata dell'intera nazione. Grazie a tutti.